La terza è che tutte le misure per il lavoro non hanno funzionato, se andiamo a vedere i risultati abbiamo 1,2 milioni di occupati in più nel periodo da marzo 2014 ad agosto 2020. Noi abbiamo fatto un milione di nuovi posti di lavoro, non so chi state applaudendo, però vi farò un milione di nuovi posti di lavoro. Però qui ti dicono sempre Marco, sì ma sono tutti a tempo determinato, guarda lì lo sanno già a memoria tutti, tutte le volte sì ma Renzi voi li avete fatti tutti a tempo determinato. No, quasi mezzo milione di questi sono a tempo indeterminato, è uno stock che non cala più, che sono stati fatti e rimangono tali.